ciao a tutti sono mattia bentornati sul mio canale oggi vi mostro alcune modifiche che devo fare alla mia ender 3 ho preso un kit che ho trovato a 10 euro su amazon per risolvere tre problemini della stampante uno principale e due che li risolvo visto che sono inclusi nel kit e vi mostro cosa c'è in questo kit e poi vi lascio una clip dell'assemblaggio sulla mia ender 3 pro la procedura è identica anche sulla ender 3 e sulle altre stampanti creality con estrusore bowden la ender 3 e la ender 3 pro ma anche altre stampanti creality per quanto visto hanno due difetti facilmente risolvibili e in questo kit abbiamo la soluzione a due di questi difetti e poi un ricambio che nel mio caso è diventato necessario il kit l'ho trovato su amazon a 10 euro ve lo lascio linkato in descrizione il prezzo oscilla tra i 10 e gli 11 euro però anche guardando i prezzi dalla cina solo per uno o più di questi componenti si arriva lo stesso ai 7 8 euro perciò vale la pena prendere il kit che costa così poco e che include tutte e tre anche se magari non sentite il bisogno di tutti e tre i componenti ora vi mostro abbiamo il manualetto con tutto quello che è intruso nel kit e che ci mostra l'assemblaggio il componente principale e quello più importante secondo me che io ho acquistato dopo aver rotto l'originale della ender 3 pro è questo che è sostanzialmente parte dell'estrusore sapete che la ender 3 ha un estrusore bowden quindi con un tubo che parte dal motore quindi dove viene spinto il filamento all'interno del tubo poi arriva all'hot end e nell'hot end viene fuso il materiale ed estruso qui quindi abbiamo il meccanismo che va a premere il cuscinetto con la ruota dentata del motore per estrudere il filamento il meccanismo originale è in plastica e soprattutto non ha questa protuberanza che va ad accompagnare meglio il filo all'interno del tubo avere il meccanismo in alluminio vuol dire che avremo un meccanismo che dovrebbe resistere molto più facilmente alle sollecitazioni considerate che qui c'è sempre una molla che fa tensione sulla plastica e quindi nel mio caso il meccanismo si è rotto in questo punto ovviamente avendo il meccanismo in alluminio dovrebbe durare più tempo quindi questo è il prezzo secondo me più importante che solitamente si trova sui 10 euro quindi solo questo secondo me vale il prezzo dentro trovate ovviamente le viti per assemblarlo che andrà montato sopra al motore passo passo vedete che abbiamo le viti poi abbiamo la ruota dentata da utilizzare sul motore e qui il coupling per andare a collegare il cavo è importante che questo sia incluso perché si possono usurare e quindi se anche voi potete recuperare quello del vostro estrusore averne uno di scorta non fa male soprattutto se notate che il tubo all'interno di questo sistema scorre e non riuscite a bloccarlo adeguatamente vedete che il sistema come al solito funziona con questa sorta di tasto quando premete in giù riuscite a sfilare il tubo quando invece è in su non ci riuscite il tubo che solitamente è in ptfe cioè in teflon si può usurare soprattutto perché il meccanismo va a grattare sul tubo soprattutto se andate a spostarlo e riposizionarlo e qui vi includono un tubo di colore nero di ricambio penso che non sia di qualità eccelsa perché quello migliore è il capricorn che trovate sempre su amazon e vi lascio linkato però comunque come ricambio se il vostro è usurato questo è di pari qualità rispetto a quello originale terzo componente che trovate incluso in questo kit sono le molle da sostituire alle molle del piatto e queste molle come potete notare hanno un passo più fino e questo va a risolvere uno dei difetti del stampante creality cioè che le molle hanno un passo troppo grosso sono molle di qualità un po più bassa e quindi quando voi andate a regolare il piatto riscaldato dovete rifare la regolazione praticamente ad ogni stampa mentre con molle con passo fino come queste comunque con una qualità un po superiore la regolazione dovrebbe durare almeno tre quattro stampe è un upgrade che costa pochissimo quindi vale la pena provare il componente fondamentale di questo kit rimane questo che è il meccanismo principe dell'estrusore ora vi lascio una clip mentre assemblo il tutto sulla mia ender 3 e se avete domande sull'assemblaggio lasciatemi nei commenti spero che questo video vi sia stato d'aiuto se lo è stato iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video grazie per l'attenzione ciao 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 ciao